A Terra Nuova Bracciolini, sabato 6 dicembre, giornata Teleton con l'iniziativa e un incontro sulla sindrome di retta. Ne parliamo della giornata con l'assessore alle politiche sociali e welfare, Lorenzo Popolo. Sabato pomeriggio alla Sala del Consiglio abbiamo l'opportunità di ospitare Teleton per affrontare questa importante tematica del Morbo di Red. È un momento in cui l'amministrazione ha la possibilità di dare un sostegno per un'iniziativa così importante e siamo felici di farlo perché non è mai sufficiente dimostrare la solidarietà nei confronti di tutti coloro che dimostrano questo impegno e fanno di tutto per sensibilizzare la cittadinanza.